Un'onda è una perturbazione che si propaga trasportando energia e quantità di moto, ma non materia, come in questo caso. L'origine dell'onda, ovvero in questo caso la mia mano, è chiamata sorgente, mentre il mezzo attraverso cui si propaga, ovvero in questo caso la corda, è chiamato mezzo materiale. Abbiamo rappresentato su un grafico un'onda, mostrando anche la lunghezza d'onda, indicata con la lettera greca lambda, ovvero la distanza dopo la quale il profilo di un'onda torna in più di ursi di un tipo a se stesso, e anche l'ampiezza, ovvero la differenza tra il valore massimo della grandezza oscillante e il valore di un equilibrio. In un'onda può verificarsi un'interferenza, che si dice costruttiva, quando i due effetti si rafforzano a vigenta, come in questo caso. O distruttiva, quando gli effetti si inneboliscono, come in questo caso.